Buon pomeriggio a tutti, post gara di Lositana-Castromenio, partita terminata con il punteggio di 3 a 2. Qui con noi Cedrone, attaccante della Lositana, che ha deciso praticamente la partita con una tripletta. Cedrone, una partita che si è messa su un binario un po' sbagliato nel corso del secondo tempo, ma con tanto cuore alla fine è stata ribaltata e sono tre punti preziosissimi questi. Tre punti importantissimi in vista comunque della classifica, perché c'erano tanti sconti diretti questa partita e poi era importante per noi dare continuità con i risultati. Partita difficile, loro ben messi in campo un'altra squadra rispetto all'andata, ce l'hanno ribaltata, però per fortuna alla fine siamo riusciti a vincere la noi. Quindi sicuramente questo è un risultato che dà tanta fiducia per quello che sarà poi la fase finale della stagione. Sicuramente sì, è una fase molto importante perché siamo passati in Coppa, in campionato il girone di ritorno siamo andati bene finora, abbiamo un'altra marcia rispetto all'andata, quindi dobbiamo dare continuità con i risultati e poi vincere aiuta a vincere sempre. Va benissimo, ringraziamo Cedrone. Grazie mille. Grazie mille.